Non fai fare i mondiali a Foggia? Foggia 2024 Cosa? Ho capito bene! Vogliono proporre i mondiali a Foggia? E appena parcheggiata la macchina, la dea bendata gli dà l'occasione di esporre le proprie grottesche teorie al vice segretario generale della FIFA, Zvonimir Boban I mondiali a Foggia E facciamo le semifinali a Sansevero, gli ottavi a Cerignoli, i quarti li possiamo fare pure a Baric La finale al Pino Zaccheria Pino Zaccheria Boban sorride e i due non domi Siccome noi siamo in giro qua, stiamo senza una lira Se ci puoi dare una cosa così? No, qua niente, solo così Ma quanto ti pappi qua? Quanto ti pappi? Ma che modo di esprimersi è? Così si trovano faccia a faccia con i campioni del Bayern I ginocchiati davanti a Robben sembrano quasi rispettosi Vuoi venire a giocare a Foggia? Foggia? Finisci Sembrano, appunto Promise, promise Promise is difficult Forza Foggia Forza Foggia Foggia e nusquadroni Foggia e nusquadroni Mamma mia, numero bello, bello, bello